Dai, Pedro, non far così, non essere triste. È triste, piano. Se vuoi ti facciamo far quinto, non è un problema. No, dai, caspita, un bel risultato che ti mette in testa in campionato. Il weekend perfetto in un weekend che sicuramente non è stato col finale giusto. Non andavamo nel massimo questo weekend, però alla fine, come il solito, dobbiamo fare il massimo possibile. E sinceramente non pensavo al campionato, perché alla fine avevamo fatto solo una gara, mancavano ancora tre. Adesso sì, bisogna vedere un po', però comunque andremo a Hanfing a votare per la vittoria. Conosci Hanfing? No. Ti piace Hanfing? Non la conosco. No, chiedo se ti piace, però non la conosci. No, non la conosco. Però immagino che sia bella, no? Speriamo. Dai, va bene, scusa. No, scusa, con una digressione. Il primo in campionato sei tu, il secondo è lui, mi sa. O forse adesso è prima lui, non lo so. Comunque è qui la gara, eh? Siete voi tre i cecchini? Mancano ancora due, dopo Hanfing ci vedrà. Quindi ancora mancano due. Dopo Hanfing vedremo qui. C'è una lotta e dopo vedremo. In finale, sul traguardo quinto, poi penalizzazione Travisanuto, penalizzazione Oxon, appunto terzo, forse sei andato un filino più piano di quanto ci si poteva aspettare da te viste le manche? O sbaglio io a dire questa cosa? Nel senso, o è giusto che tu abbia fatto quella posizione? No, diciamo che siamo stati tutta una settimana in rimonta, ci stavamo mettendo a posto e sembrava che eravamo per notare per la vittoria in finale. È stato così per 7-8 giri dove pensavo che ce la potevo fare, ma dopo il decimo ho cominciato a calare. Vabbè, niente, ringraziare alla squadra e pensiamo alla prossima. Adesso fra un quarto d'ora, venti minuti, magari c'è il podio. È normale che non c'è ruolo. Eh, no, stai qua, stai qua. Lo stanno facendo per quello. Ah, avete capito come fa? Alfio, un voto a questa dichiarazione. Subito, un voto subito. Voto? Dieci. Ma come? Dieci? Non sbagliare. Sta. Ti vuole bene. Sì, sì, ormai ti ha preso a esempio e stai sbagliando tutto. Eh?